Che bello, amici di Radio Bruno, grinta, energia, ma un sorriso strepitoso, Emma, ciao! Ciao, ciao a tutti gli amici di Radio Bruno. Ma Emma, è possibile divertirsi durante questo festival? Perché la percezione che abbiamo di te, a parte la voglia di cantare su quel palco, è anche quella. Non è solo possibile, per quanto mi riguarda quest'anno per me è doveroso, è stato l'unico paletto che mi sono prefissata proprio nell'anima di venire qui e godermi questo momento dopo tanto, tanto lavoro e momenti difficili. Quindi questo per me è il Sanremo proprio della rinascita. Sono qui per la mia gente, per ringraziarla di tutto quello che hanno fatto per me nell'ultimo anno della mia vita e quindi sì, mi voglio divertire. E si vede, quindi apnea, apnea e poi dopo ritornare insomma a galla. Esatto, esatto. L'importante è resistere, rimanere, trovare una bella via d'uscita per quanto mi riguarda è stata la musica e sono orgogliosa. Ieri sono scesa veramente con una grandissima serenità nel cuore e sono felice perché insomma vedo la gente intorno a me molto felice e questo mi fa stare serena. È proprio così, ma come è nata questa canzone? Raccontaci un po'. Beh, è nata dalle esperienze, da un disco precedente, Souvenire. Io ho sempre detto che insomma stavo già lavorando alla seconda parte dell'album, in mezzo c'è stato un tour nei club, quindi credo che apnea sia un po' il risultato di quello che sono stati gli ultimi mesi nella mia vita che è stata contornata completamente e totalmente dalla musica. Poi credo anche al caso, credo al karma e credo che ogni tanto ci restituisce anche delle cose molto belle la vita. È proprio così. Senti, a proposito dei tuoi live, hai stupito tutti a livello social perché sei scesa dal palco, hai preso qualcosa al bar, hai detto la tua, hai comprato delle copie a persone che non potevano permettersi il tuo album. Veramente quello che ti senti di fare lo fai con tutto il cuore. Sì, assolutamente sì. La mia comunità, la mia gente è la cosa più importante, quindi magari è capitato di beccare dei ragazzini, giovani, delle ragazzine che magari non potevano permettersi il biglietto. Sono stata giovane anch'io e so che cosa significa a volte non avere i soldini per fare tutto, quindi in maniera molto, capito, li facevo comunque entrare tutti dentro, ad assistere ai miei live, che non poteva prendere il disco. È stato un piacere poterglielo regalare personalmente perché, insomma, nella vita è vero che il lavoro è importante, però io credo che i gesti reali d'affetto valgono più di ogni altra cosa e il mio pubblico si merita tutto. Il tuo pubblico si merita tutto. Questo è il quinto e ultimo Sanremo di Amadeus. Quanto ha rivoluzionato Sanremo? Tu che hai partecipato veramente a tante edizioni. Chi lo sa? L'ultimo? Lui dice così. Forse vuole essere supplicato. Non lo so. Beh, però sicuramente ha cambiato molto la visione di quello che è sempre stato Sanremo. La prova concreta sono i nomi che sono tornati su quel palco. Ha fatto un ottimo lavoro e secondo me ha restituito la musica anche a tutti i generi musicali, perché il suo Sanremo è sempre stato un Sanremo molto inclusivo, quindi ha restituito a tutti i generi la giusta dignità e anche il giusto spazio, perché la musica è di tutti e ogni genere musicale merita uno spazio, soprattutto in questo paese dove magari l'arte viene sempre messa un po' in secondo piano, invece l'arte secondo me genera bellezza e sono convinta che la bellezza salverà il mondo. A proposito di bellezza, di omaggio, venerdì, ci vuoi emozionare con questo omaggio a Tiziano Ferro? Non vi voglio emozionare, vi voglio far piangere anche le lacrime del battesimo, tutto, perché sarà un duetto emozionante, perché Brescia è un artista incredibile che stimo tantissimo, ma vi posso assicurare che è una persona meravigliosa. Abbiamo fatto un lavoro di fino per rendere veramente un grande omaggio a un grande artista come Tiziano Ferro. Tirate su le maniche della camicia perché vogliamo vedere la pelle d'oca in primo piano dalle sedie rosse di Sanremo. Ma l'hai sentito? Tiziano, assolutamente sì, tra l'altro mi ha scritto stanotte da lei da Los Angeles per farmi dei complimenti incredibili, quindi viva Tiziano, anzi Tiziano torna perché ti stiamo aspettando, qua siamo tutti i tuoi fan. È vero, ma questa canzone l'hai scelta perché è speciale per te, per la serata delle cover naturalmente? Sono brani, soprattutto il primo del medley, un brano che spesso canto sotto la doccia, perché sono brani di una certa caratteristica, ma non c'è un brano di Tiziano che non ha una caratura importante, quindi diciamo che è un gioiellino questo medley, è veramente un piccolo gioiello. Non vediamo l'ora naturalmente di assistere a questo con la manica sollevata, il fazzoletto, grande emozione. Dopo questo Sanremo che succederà? Ho organizzato le vacanze estive per tutti perché andremo in giro per i maggiori festival di musica in Italia e sono contentissima di fare questa ennesima esperienza. Festa finale, 11 novembre al Forum, vi aspetto perché ci saranno delle sorprese incredibili, c'ho già lo show in testa, non vedo l'ora di metterlo in pratica proprio su quel palco incredibile. Noi non vediamo l'ora di vederlo, grazie mille a Emma. Grazie a voi, buon Sanremo. Grazie a voi.